Ciao, benvenuti su Cartisia! Oggi vi propongo la crema d'orzo dolcissima, un dolce al cucchiaio ideale anche per farcire le nostre golosissime torte. Provate la crema d'orzo con panna, buonissima! Vi lascio come sempre tutti gli ingredienti qui sotto nell'info box. Buona visione! Vi servirà mezzo bicchiere di latte, io in questo caso utilizzo la soia e poi vado a mettere in questo mezzo bicchiere due cucchiai di Nesquik. In alternativa potete tranquillamente utilizzare il cacao zuccherato. Amalgamate bene il tutto. Dopo aver amalgamato bene il tutto lascio il mio mezzo bicchiere tra i 20 e 30 minuti in freezer. In una ciotolina vado a versare mezzo bicchiere di orzo solubile e 250 ml di acqua bollente. Amalgamate bene l'acqua bollente con il vostro orzo solubile. Quindi andiamo a sciogliere l'orzo con la nostra acqua. Una volta fatto questo vado a versare nella mia ciotola lo zucchero a velo. Ne utilizzo due cucchiai. Amalgamate anche lo zucchero a velo con il vostro orzo. Prendete una ciotola e versate mezzo bicchiere di orzo solubile e mezzo bicchiere di zucchero bianco. Vado a riprendere il mio mezzo bicchiere di latte Nesquik dal freezer e lo verso nella ciotola. Bene, adesso lavorate il tutto con le fruste elettriche. Mi raccomando, prima amalgamate fruste spente e poi azionate le fruste elettriche, se no vi schizza tutto addosso. Bene, a questo punto vado a versare circa 200 ml di panna zuccherata da montare e continuo a lavorare il tutto con le fruste elettriche. Il tempo di montare la nostra panna e la nostra crema d'orzo è pronta. Una delicata preparazione dolce, facile e golosa. Ottima per farcire torte e crostate. Bignè da gustare come dessert accompagnata da biscottini. Credetemi, è una vera e propria delizia. In alternativa alla crema di caffè. Quindi molte persone mi hanno chiesto come realizzare una crema d'orzo alternativa alla crema di caffè. Credetemi, provate questa ricetta perché è davvero buonissima, facilissima e velocissima da realizzare. Se invece volete realizzare una crema d'orzo dal gusto più deciso, versate altri due cucchiai di orzo solubile e con la spatola amalgamate bene il tutto. Bene, una volta fatto questo vado a versare ancora 4 cucchiai di caffè solubile. Amalgamate inizialmente con la vostra spatola, sempre con movimenti che vanno dal basso verso l'alto e poi nuovamente utilizzate le fruste elettriche, massimo per un minuto. Quindi andiamo ad amalgamare bene il tutto perché dopo un minuto rischiamo anche di smontare la nostra panna. Amalgamate bene il tutto per ottenere una crema davvero buonissima e questa volta dal gusto ancora più deciso. Dopo aver creato la vostra crema d'orzo l'assaggiate e se lo ritenete opportuno create questa seconda crema d'orzo che avete visto adesso poc'anzi. Quindi avete due scelte, la crema d'orzo delicata e la crema d'orzo dal gusto più deciso. Fate voi, scegliete voi in base ai vostri gusti. Che dirvi ragazzi? Io spero che questo video vi sia utile mi raccomando iscrivetevi perché ci sono in arrivo tantissime video ricette super golose e tantissime altre ricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei video e se volete potete seguirmi su facebook, su instagram e su tiktok. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Baci da Cartesia. Lasciatemi un commento e fatemi sapere cosa ne pensate, commentate e condividete. Ciao alla prossima!